Amici palermitani e dei fuoricampo buonasera siamo qui per parlare di Cagliari Palermo terminata 2 a 1 per i Sardi ma prima di tutto io vi invito a iscrivervi a questo canale a mettere mi piace a questo video e a commentarlo fatemi sapere che cosa ne pensate della partita e di questa nuova iniziativa targata ai fuoricampo che andranno a seguire il Palermo in tutto il suo percorso stagionale perché il Palermo beh ragazzi è semplice il Palermo per me che sono giallorosso e romanista ha tanto in comune tantissimi giocatori condivisi basti pensare che oggi la coppia d'attacco di rotale della Roma è formata da Dibale e Belotti che hanno fatto la fortuna in parte dei palermitani e del Palermo stesso tanti tanti ex da Luca Toni a Simplicio, Pastore, Balzaretti veramente tantissimi ex quindi è una squadra in più che mi attira per la proprietà straniera l'ambizione di tornare in Serie A c'è una forte simpatia tra le due tifoserie se non un vero e proprio gemellaggio questo onestamente non sono riuscito ancora a confermarlo ecco perché da quello che so io non c'è un gemellaggio ufficiale però siamo comunque ad una forte simpatia ed empatia tra le due tifoserie di Roma e Palermo è una squadra che mi piace e che ho visto giocare anche bel calcio in Europa qualche anno fa e quindi sono fortemente intenzionato a seguirla quest'anno vi parlerò del post partita del Palermo come già facciamo per il Venezia che è il nostro cavallo di battaglia e come andremo a fare probabilmente con Davide Martini o per il Parma oppure per le gare di cartello stiamo un attimo cercando di capirlo questo quindi vi troverete settimanalmente dopo le gare dei siciliani il mio post partita di analisi e commento alla gara a cui vi invito appunto di mettere il mi piace di commentare sotto al video perché è importante ci fa girare di più, ci fa vedere e quindi permette a tanti di entrare con quello che è il mondo dei fuoricampo un mondo che vi porta a discussione del calcio che nessuno racconta questo è il nostro motto, il campionale di serie B ormai ha veramente poche trasmissioni di commenti e di analisi qui ai fuoricampo trovate ampio spazio sulla serie B quindi ragazzi seguiteci, iscrivetevi se volete abbonatevi, costa poco avete anche la possibilità di entrare in contatto con noi sul canale Telegram la possibilità di fare il fantacalcio con noi quest'anno quindi veramente il costo è ridicolo perché sono 2 euro di iscrizione mensile quindi ragazzi vi aspettiamo allora questa è la grande introduzione a questa nuova rubrica dell'opinione sul Palermo però adesso passiamo alla gara una gara che il Palermo ha interpretato bene a me mi è sembrata una squadra pronta una squadra che pronti via ha messo in forte difficoltà il Cagliari il Cagliari che è una squadra di serie A una squadra che è riuscita ad ottenere la promozione all'ultimo minuto della precedente stagione con il gol di Pavoletti e quindi mi aspettavo magari un divario maggiore invece in campo questo divario non si è visto il Palermo che si è schierato con un 4-3-3 con Ceccaroni terzino sinistro Marconi e Lucioni centrali e Matteo a destra il centrocampo A3 composto da Gomez Stulac e Vasic in attacco con Brunori di Mariano e Insigne è un Palermo che è partito subito forte che ha avuto con Brunori subito una grandissima occasione con il portiere del Cagliari attentissimo a deviare una grande girata in aria perché con il tacco si sposta la palla sul destro e poi va ad angolare molto bravo lì il portiere del Cagliari che è andato vicino a un altro vantaggio con un pallonetto su un inserimento del centrocampista diciamo della mezza alla destra e anche lì il portiere del Cagliari è stato molto forte e ha rischiato di andare sotto con il calcio di rigore molto 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 generoso perché sì c'è il tocco di mano è netto però non può smaterializzarsi c'è un cross dalla sinistra Pavoletti non arriva sul pallone e credo Mateo va a impattare il pallone con la mano da Romanista non mi hanno dato il rigore in finale di Europa League secondo me con un gesto molto più plateale e volontario questo è un rigore che si può non dare in Europa probabilmente non lo fischierebbero ci era stato detto che questi rigori non dovevano essere fischiati neanche in Italia oggi pronti via a lavare viene dato Pigliacelli lo para e poi Luciani fa un grande intervento e mette in angolo un primo tempo che si chiude così quindi sullo 0-0 ripeto un buon Palermo all'inizio tanto possesso palla del Cagliari ma non tante azioni pericolose nella parte centrale del primo tempo e un finale in crescendo del Palermo che arriva vicino al gol secondo tempo parte più o meno sulla stessa lunghezza d'onda il Cagliari è un po' più pericoloso ma non ricordo grandissimi interventi da parte di Pigliacelli a salvare risultato mentre c'è un'altra grande parata del portiere del Cagliari Radoinic vabbè non lo pronuncerò mai bene questo nome che fa un altro grande intervento salva risultato e quindi ripeto sta un po' la mare in bocca perché è un Palermo che nei 90 minuti arriva più vicino al Cagliari al vantaggio bene, bene, bene alcuni giocatori ripeto la tenuta della squadra in generale mi è sembrata mi è sembrata molto buona Brunori ha creato occasioni ha creato spazio è andato vicino al gol un po' meno bene i due esterni lì in attacco che però devono solo probabilmente andare a sistemare i giri delle loro qualità perché sia Insigne che Di Mariano hanno ampie qualità un centrocampo che mi è sembrato molto 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 ben amalgamato con giocatori che si inseriscono chi va a far copertura un'ottima gestione della palla tanta verticalità insomma un Palermo che a me è piaciuto è piaciuto nei 90 minuti una tenuta difensiva forse un po' da registrare C'è Caroni lì a sinistra ti dà una buona fase di copertura poi andremo a vedere perché poi nei tempi supplementati questa cosa un po' cambia i cambi hanno portato a una gara molto diversa e questo lo affrontiamo magari ecco leggermente più antico prima rimango sui 90 minuti a me il Palermo nei 90 minuti non è sembrato inferiore al Cagliari quindi questo mi fa ben sperare per quello che è la stagione del Palermo nei supplementari la partita cambia come per forza di cose il Cagliari ha dei cambi di maggiore qualità tu vai a sostituire quelli che sono i tuoi giocatori più forti e per forza di cose ti abbassi lasci più campo il Cagliari viene più fuori ripeto comunque non ricordo grandissimi interventi di Pigliacelli c'è una parata su Zappa un'altra un'altra sul primo palo prima del gol del vantaggio Cagliaritano in Tossena sul calcio d'angolo però insomma non mi è sembrato un Cagliari che riuscisse a portare pericolosità con la sua supremazia di possesso di palo il gol viene su una disattenzione della difesa un calcio d'angolo battuto da da Viola sulla testa di Tossena che salta indisturbato al centro dell'arietta piccola lì secondo me ci sono diversi errori c'è l'errore del marcatore che non segue il giocatore Cagliaritano però l'errore più grande forse lo fa il portiere che resta sulla linea di porta a 10 metri penso poter tranquillamente uscire magari anche con i pugni per smanacciarla via resta sulla linea di porta e poi non mette neanche una ferrea resistenza una ferrea e ferma resistenza sul colpo di testa che gli sbatte sulla mano e finisce in porta qualche colpa Pigliacelli secondo me sul gol ce l'ha il Palermo non ha sembra non avere la forza di poter reagire ci prova più con i nervi che con la qualità perché ripeto purtroppo la qualità nei cambi è di molto inferiore rispetto a quello che è la squadra di Dolare e questo in una stagione rischia di pesare quindi spero arrivi qualcos'altro dal mercato che possa un attimo sistemare questa situazione perché è un Palermo che secondo me negli 11 titolari ha un'ottima squadra all'ultimo minuto però sembra esserci la possibilità di portarla ai calci di rigore dove con un calcio d'angolo battuto da Mancoso e Mancoso Soleri stacca di testa e inzacca finalmente alle spalle del portiere cagliaritano che fino a lì aveva salvato il risultato questo succedeva al 122esimo minuto 120 più due minuti di recupero ovviamente l'arbitro dà quei 40 secondi in più per il gol fatto dal Palermo e lì la squadra completamente uscita dal campo perché forte del pareggio appena raggiunto probabilmente stavano già con la testa a calci di rigore una palla che viene recuperata sulla tre quarti dal Cagliari per un'ingenuità di Soleri che non la protegge la manda in fallo laterale per il Cagliari la squadra del Palermo è completamente fuori al campo probabilmente si aspettano un fischio finale non lo so saltano tutte le marcature la palla viene giocata subito sullo Vumbo che salta il suo diretto marcatore la mette al centro Cercaroni fa un buco ripeto mi ha dato l'idea che fosse più che un buco difensivo proprio la mancanza di restare sulla partita io credo che i giocatori del Palermo si aspettassero il fischio finale questo non c'è e non c'è stato e questo a maggior ragione ragazzi è una cosa che deve essere rivista perché finché l'arbitro non fischia non puoi fare una cosa del genere sono tutti lontano dalle marcature il cross va a Di Parto che buca Pigliacelli e anche qui Pigliacelli può fare di più perché sul pallone c'è arrivato non spinge abbastanza se la butta in porta dispiace perché magari ai calci di rigore riuscivi a sfangarla dispiace perché nei 90 minuti secondo me al netto di tutto probabilmente ha meritato più del Cagliari di passare il turno dispiace perché poi non è che tu avessi la possibilità di chissà quanto di andare avanti in Coppa Italia che è un formato che va troppo a penalizzare le squadre di più bassa classifica tant'è vero che il Palermo va a Cagliari a giocare in casa del Cagliari e così sarebbe andata avanti la situazione quindi onestamente ti togli un impegno l'hai onorato alla grande e adesso testa il campionato che inizia la prossima settimana subito venerdì c'è c'è un incontro importante e la squadra però mi è sembrata pronta soprattutto l'11 titolari è una squadra che può dire la sua per la promozione se non per la promozione diretta per una corsa ai primi posti ai primi quattro posti perché poi probabilmente credo quest'anno magari il campo mi smentirà che non ci sarà un fogone come quello dell'anno scorso ci sono 4-5 squadre che hanno la possibilità di fare molto bene vediamo chi si confermerà e chi no nel pomeriggio il Parma aveva strapazzato il Bari c'è c'è stato c'è stato una prova importante del Parma del Parma a Bari un Bari che non è quello dell'anno scorso un Parma che sembra avere oggi forse una qualità maggiore rispetto alle pretendenti ma che dietro può ballare può ballare in Palermo mi è sembrata da questo punto di vista invece una squadra un po' più solida e questo non significa che il Palermo sia più forte del Parma o che lo sarà però mi è sembrata una squadra costruita con un po' più di equilibrio ecco una difesa che si regge su Lucioni che oggi ha fatto una partita stratosferica un giocatore di un'altra categoria un giocatore che in B merita di essere tra i migliori del campionato importa non so se rimarrà a Piaceli ovvero ha data fiducia al giovane portierino italiano che abbiamo preso come secondo questo lo dirà il campo oggi certo è che sui due gol in entrambi i due gol il portiere scuola Roma che insomma io un minimo avevo seguito in primavera e qualcosina poteva fare di più soprattutto sul secondo perché sul primo ok sbaglia non uscire secondo me però nel momento in cui non esce il tiro è veramente ravvicinato può metterci più forza nelle mani ma è difficile perché poi il tiro è veramente da vicino e anche molto forte perché la palla è tesa sul secondo c'è arrivato non spinge abbastanza stesso problema del primo ma sul secondo può fare ancora di più perché la parata ce l'ha ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video post partita spero vi sia piaciuto scusate gli errori di pronuncia scusate se ho tralasciato qualcosa spero di migliorare col tempo sto approcciando il Palermo per la prima volta dopo tantissimo tempo insomma mi auguro di fare una bella stagione con voi ricca di soddisfazioni e quindi forza forza Palermo e come cantarono tempo fa a Curva della Roma rivolgiamo presto il Palermo in Serie A ciao a tutti ragazzi al prossimo video grazie a tutti i